Grazie a tutti. Guarda Carmine, quest'anno siamo partiti a inizio mese, purtroppo un po' di persone a causa lavoro non sono venute a fare allenamento, quindi diciamo che ci stiamo conoscendo pian piano e per quanto riguarda il campionato vediamo partita dopo partita. Comunque la società ha allestito una buona squadra, cerchiamo di fare meglio dell'anno scorso e vediamo. Per quanto riguarda sabato siamo partiti un po' male perché nella fase di preparazione non siamo riusciti a fare un amichevole, però poi piano piano siamo andati bene, ci siamo sbloccati e alla fine abbiamo raggiunto un buon risultato. Quattro e tre fuori casa, vabbè. Si ripartiva da un'ottima base quella del quarto posto della passata stagione con degli innesti che ci sono stati però molto importanti come ad esempio Matteo Di Martino, Marco Parisella, Salvatore Coppolella. Secondo te bastano questi elementi uniti alla conferma del gruppo precedente per colmare quel gap che l'anno scorso vi ha separato dal terzo posto e dei playoff per sole tre lunghezze? Guarda, secondo me sì. Come hai detto tu la maggior parte dei ragazzi li abbiamo riconfermati, alcuni sono voluti andare via, poi abbiamo preso tre o quattro persone che ci possono far fare la differenza. Io sono convinto che faremo un ottimo campionato e un campionato di vertice, mi sono convinto. Sicuramente secondo gli addetti ai lavori siete tra le candidate per le prime posizioni anche se va detto Massimo Milano che in questa stagione il livello della C2 probabilmente dopo quattro anni non è mai stato così alto. Quindi l'ultima volta, l'ultimo cambiato del genere si è giocato nel 2015-2016 quindi quattro anni dopo di nuovo una C2 molto competitiva. Secondo te quali sono le squadre da temere maggiormente? Guarda, sono sincero, non le conosco. So e mi hanno parlato che ci sono tre o quattro tra virgolette corazzate però andiamo in campo e vediamo come sono. Non le conosco quindi non so che dirti. In chiusura flash rivedremo Triolo in campo quest'anno o solo nelle vesti di allenatore? Lo spero, lo spero. Sto lavorando per ritornare. Vediamo. Ma è ancora un po' lunga però ce la metterò tutta. E noi ce lo auguriamo e te lo auguriamo. Grazie Massimiliano. Grazie a te. Siamo con Mino Senneca, capitano del Little Pirata Sperlonga, confermato in questo ruolo per la seconda stagione consecutiva. Mino, abbiamo ascoltato prima il vostro allenatore che comunque crede di poter disputare una stagione importante. Qual è la tua opinione in merito? Innanzitutto buonasera a tutti. Io spero che quest'anno faremo un bellissimo campionato. Conto sui miei compagni e sui nuovi acquisti che ha fatto la società. Vorrei fare anche un complimento alla mia società per gli acquisti che abbiamo fatto. Poi dipende tutto da noi. Bisogna scendere in campo e giocarsela contro tutti. Da fuori si percepisce una grande armonia tra società e giocatori ma questo anche nella passata stagione. Ti chiedo, la Rosa comunque era competitiva molto anche lo scorso anno. Cosa è mancato? Beh, penso che quest'anno la Rosa sia più competitiva con i nuovi acquisti. L'anno scorso avevamo un po' di giovani che venivano comunque da categorie più basse come la Serie D e hanno fatto un campionato di Serie C2. E non è facile affrontare un campionato di Serie C2 per aver fatto solo la Serie D. Quest'anno abbiamo fatto dei nuovi acquisti che hanno fatto categorie Serie C2 superiori a questa che stiamo affrontando noi. Sperando che ci possano dare una grandissima mano. Faccio la stessa domanda che ho fatto prima a Mr. Triolo. Lui non si è sbilanciato. Non so se tu vuoi farlo. Su quali sono le avversari che tu temi maggiormente? Faccio qualche nome. Eraclès. Poi ovviamente c'è anche l'AMB Frosinone. Squadra che a quanto pare è assai attrezzata nella lotta al vertice. Tu tra queste insomma quale vedi un po' più avanti delle altre? Beh io penso che le partite si devono giocare tutte. Non è la più forte o la meno forte. I punti si possono perdere anche con l'ultima in classifica. Dipende tutto da noi. Cercheremo di dare il massimo per questa maglia e per la società che ci sta dando l'occasione di fare questo campionato ad alti livelli. Va benissimo Mino. Allora in bocca al lupo. Crepi il lupo. Grazie. Eccoci con Marco Parisella. Uno dei volti nuovi del Lidl Pirata Sperlonga di questa stagione. Un acquisto molto importante sul quale la società punta molto. D'altronde Marco per te parlano i numeri. Quindi cosa ti aspetti da questa stagione? Innanzitutto buonasera a tutti e ringrazio la società per avermi dato la possibilità di tornare a Fondi. Devo dire che ho trovato un bel gruppo. Mi trovo benissimo. Speriamo di rivivere i campionati con i gol passati anche. È una vera e propria colonia potremmo dire. Quella proveniente dallo sporting della Cina della passata stagione. Infatti ti ha seguito in questo percorso anche Matteo Di Martino così come il tuo compagno di merende potremmo definirlo così Salvatore Coppolella. Pensi che con il vostro aiuto questa squadra possa fare quello scalino che l'anno scorso davvero di pochissimo questa società non è riuscita a fare? Innanzitutto la squadra che abbiamo trovato penso che con il nostro aiuto possiamo fare di più di quello che hanno fatto anche se sono fortissimi e speriamo di poterli aiutare partita dopo partita. Marco, quante re ti prometti per questa stagione? Ne hai fatte tante in questi anni anche in Serie C2 magari il palazzetto di Fondi è un po' più grande del Palacarucci di Terracina però sono sicuro che una quota goal l'hai già messa in mente. Non l'ho messa in mente. Vediamo partita dopo partita quello che succede e sommiamo alla fine. Bene, grazie allo Spavaldo, Marco Marisella in bocca all'uvo. Grazie. 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 Ricordo una debacle ad esempio in aspettata in casa del Flora penultimo in classifica oppure che nel momento della verità ci sono stati 3-4 momenti della verità addirittura tutte partite interne e mancato quel pizzico di esperienze e di tranquillità per portarle a casa. Tra le due quale scegli per così dire? Guarda tutte e due perché è stata un insieme di tutte e due le cose. Innanzitutto l'anno scorso non siamo riusciti ad avere una concentrazione in tutte le partite. Abbiamo sottovalutato qualche partita e ci è costata gara, tipo quella appunto di Flora e altre. Altre 2-3 le abbiamo vinte proprio negli ultimi secondi e comunque dimostra che è mancata un po' di esperienza nel portare a casa anche le partite fino alla fine che si possono perdere anche l'ultimo secondo. Tutte cose che ci hanno insegnato comunque tanto e partiremo sicuramente da questo quest'anno, da sicuramente un'esperienza più consolidata. Sei sempre molto attento non solo alle cose di casa vostra ma anche ti guardi molto intorno. Qual è la squadra che secondo te può dare più filo da torcere in questo girone? Ce ne sono, abbiamo detto prima, almeno altre tre. Sì, ti posso parlare di qualcuna che conosco tipo Heracles, le solite, insomma che tutti gli anni sappiamo che allestiscono squadroni per arrivare tra i primi posti. Ho sentito parlare di tecnologi che comunque dovrebbe essere una squadra abbastanza tosta da affrontare. Poi c'è anche il Frosinone, molto forte. Il Frosinone pure, ce ne sono diverse. Quest'anno credo sia un campionato molto difficile. Certamente, come dicevamo prima con anche Mister Triolo, dopo quattro anni la C2 è più competitiva però questo può essere anche uno stimolo per dare qualcosa in più in ottica le prime tre posizioni. Certo, partecipare a un campionato, cioè giusto per squadre che comunque non sono a livello, non sarebbe nemmeno bello vincerlo a un certo punto. Invece vincere un campionato d'élite ti dà comunque la consapevolezza di aver fatto una bella squadra e è più meritata la cosa, secondo me. Un'ultima domanda, su chi punteresti un euro tra i tuoi giocatori che, non lo so, lo vedi particolarmente bene e speri che possa fare il meglio di tutti gli altri che stanno candidando dato dalle retrovie parecchi giocatori, su chi punteresti tra virgolette un euro? Guarda, non faccio preferenze, credo che... No, ma più che preferenze è una sensazione, ha sensazione. Una sensazione, l'uomo del momento ti posso dire, secondo me ce ne sono due o tre del momento proprio attuale, ma uno tra tutti proprio l'informissima, credo, Simone Saccoccio. Benissimo, quindi ci attendiamo la consagrazione definitiva di Magic Box Simone Saccoccio e chiudiamo così con questo augurio per te e per il giocatore. Grazie Michele. Grazie, buonasera. Chiudiamo la rassegna degli interventi nell'ambito della presentazione ufficiale del Lidl Pirata stagione 2019-2020 con Giovanni Di Trocchio, veterano ormai della disciplina, con un passato lungo nel calcio undici, ma ormai Giovanni sono almeno sette anni che ti cimenti nel futsal, tra l'altro con buoni risultati. Ne hai viste tante, hai vissuto vari campionati con maglie diverse tra Serie D e Serie C2, quindi ti chiedo a te che sei un osservatore attento, cosa ti aspetti da questa stagione? Buonasera innanzitutto. Allora, questa stagione, pensando a quella dell'anno scorso, che la squadra era già buona sin dall'inizio, però abbiamo pagato un po' di assestamento iniziale e soprattutto mancava un po' il gruppo, che da dicembre in poi si è formato e infatti i risultati si sono visti tutti quanti. Quest'anno bisogna partire proprio da questo, dal gruppo perché anche i nuovi innesti sono potenziali a formare un bel gruppo perché li conosco già da tempo, con chi ho condiviso il calcio a undici, con chi l'amicizia e quindi secondo me quest'anno c'è un grosso potenziale di un bel gruppo per fare un bel campionato. Senti Giovanni, io ricordo lo scorso anno una partita praticamente sotto Natale contro la capolista United Bomezia, stravinta da parte vostra, con te che disputasti una partita a mio avviso bellissima e forse però con lo spirito di sacrificio in cui tu diciamo che tu hai dimostrato in quella partita e in altre occasioni forse un po' mancato l'anno scorso in generale, in alcuni momenti chiave della stagione. Si può ripartire da questo, da quell'umiltà, da quello spirito di sacrificio per dare quel qualcosa in più e fare l'ultimo step? Certo, certo, bisogna partire proprio da lì, dare il massimo aiutandoci tutti quanti l'uno con l'altro senza mai mollare, poi vabbè da parte mia ci deve essere forza quello visto che non ho il livello di alcuni miei compagni tecnici quindi loro possono sfruttare pure più quelle doti lì, mentre io devo dare sempre tutto in mezzo al campo aiutandoli e seguire le indicazioni del mister al meglio. Quindi anche i compagni per così dire più bravi devono imparare a portare l'acqua come si dice in cerco. Tutti dobbiamo rimare nella stessa direzione, loro mettono anche le tori tecniche, mentre noi mettiamo qualcosa in meno più sulla aggressività, però tutti quanti dobbiamo aiutarci, fare gruppo e seguire le indicazioni del mister al meglio per disputare partita dopo partita tutto quello che ci viene chiesto. A livello atletico sei sempre uno dei più brillanti, non ricordiamo la tua età però insomma non sei più giovanissimo, dici qual è il tuo elisir Giovanni? Diciamo che sto pagando anno dopo anno i miei 34 anni, li dico perché tanto ci stanno quindi non si può spurgire da questo, però ecco la passione e la voglia di stare insieme ai compagni è questo che ti dà sempre la voglia di metterti in gioco e di allenarti anche se con le difficoltà però diciamo che quando uno ha la passione è difficile mollare e i compagni mi danno forza e quindi ce la metto tutta per restare sempre in forma anche se gli anni si sentono. Grazie mille Giovanni, in bocca al lupo anche a te. Grazie a voi, credi il lupo.